Ciao a tutti e ben ritrovati qui sul canale Dama Colleziona. Oggi video in cui parliamo di fumetti e di manga, o meglio vi mostro i miei ultimi acquisti a tema manga e fumetti. È da un po' di tempo che non vi porto più un video acquisti, quindi finalmente vi mostro le ultime cosucce che ho recuperato recentemente. Iniziamo dai prodotti made in USA, prodotti occidentali. Iniziamo da un fumetto edito da Coconino, una loro Variant Edition, su un fumetto che mi ispira tantissimo, un fumetto underground indipendente che è The Cage di Martin Vogue Jones. Questa qui è l'edizione Variant Edition, esclusiva per lo store Coconino Press, Fandango. Esiste anche in versione regular, ma io da buon collezionista ho preferito questa edizione Variant limitata. Mi sembra che sono state stampate solamente mille copie, anzi 200 copie, 200 copie e la mia copia 196 di 200. Fumetto particolarissimo, indipendente, noto agli addetti ai lavori. Qui ci sono anche degli inserti cartacei, dei bonus extra material che spiegano un attimino l'opera. E poi mi sono innamorato della sua particolarità, delle tavole, un'opera insomma indipendente, particolarissima, non adatta a tutti. Vi devono piacere i prodotti indipendenti particolari che hanno segnato la storia del fumetto. Quindi questo è The Cage Variant Edition, targata Coconino Press. Continuiamo sempre sul versante occidentale. Questa volta da un prodotto indipendente passiamo a prodotti mainstream. Ho recuperato alcuni spillati targati panini su Spider-Man, alcune Variant Edition, Variant che ho preso prevalentemente per la loro bellezza, per gli artwork frontali, per le illustrazioni. Perché guardate, che bella. Questa è la Variant Edition di Ultimate Invasion 1, cover Variant di John Tyler Christopher. Cioè, ragazzi, guardate che bella. Stupenda come Variant. Io sono un super fan di Spider-Man. Come dire di no ad una Variant del genere. Superba. Molto, molto bella. Poi, sempre per quanto riguarda Spider-Man, ho recuperato questa Variant qui. Di Ultimate Spider-Man 1, cover Variant, WPVC. Esiste anche la Variant di Marco Checchetto, che ha una cover leggermente diversa, esclusiva per le fumetterie. Io mi sono dimenticato di preordinare anche quella Variant lì nella mia fumetteria di fiducia, per cui l'ho persa. Ho reperito solamente questa. Pace. Alla fine è quella che mi piace di più. Quindi mi accontento anche così. Molto bella questa cover qui, per questa nuova ripartenza del filone Ultimate di Spider-Man. Molto, molto bella come Variant cover. Stupenda anche questa. Poi ho recuperato questa Variant Edition targata Frank Miller di Capitano America 168. Un'altra nuova ripartenza sul Capitano d'America, su Steve Rogers. Anche questa cover è molto, molto bella, particolare, che ha come gadget il magnete. Molto bella anch'essa come Variant Edition. Comunque è una Variant targata Frank Miller, per cui in collezione ci sta alla grande. Poi ho comprato anche questo Blind Pack, Multivariant Pack. Vi avevo già fatto vedere qualcosa tempo fa. Ma ne ho preso un'altra. Praticamente sono tutte Variant, eh. Non si sa quale ci sia all'interno, ma sono tutte Variant. Vediamo, vediamo, vediamo. E ho trovato la Variant di Daniel Hakuna. Molto bella, colorata, ficca. Molto bella. Bella, mi manca. Diversa da quella che avevo trovato. Se non ricordo male, avevo trovato quella di John Tyler Christopher, quella con visione. Non mi ricordo se avevo fatto vedere lo spacchettamento in un precedente video acquisti fumettoso. E aggiungiamo anche questa bellissima Variant nella collezione. Poi, come ultimo prodotto occidentale, ho comprato, attraverso gli sconti che Panini ha emesso un paio di mesetti fa, lo sconto del 20% su determinati prodotti. Ho recuperato questo Mega Omnibus con tutto il filone The Invisibles di Grant Morrison. Come potete vedere, si tratta di un Mega Omnibus con più di mille pagine, con tutto il ciclo di questa stupenda storyline del fumettista scozzese Grant Morrison. Queste edizioni in cui gli Omnibus a me piacciono parecchio, ne ho parecchie, mi piacciono tantissimo, ne ho parecchie in collezione. Però questo qui, devo essere sincero, è molto molto pesante, è molto scomodo da leggere, insomma. È bello grosso. Quindi, boh, non so come mai non abbiano splittato il ciclo in due volumi, pesa un casino. Poi vabbè, gli Omnibus hanno carta pregevole, carta bianca di pregevole fattura e così via. Quindi è tutto un prodotto pregevole di alta qualità. Però, dal punto di vista della leggibilità, della facilità di lettura, è un po' scomodo questo Mega Volumazzo. The Invisibles di Grant Morrison. Poi, prima di passare ai prodotti orientali, manga giapponesi, vi mostro anche delle riviste che ho recuperato. Sono delle riviste targate spreditore, che ultimamente ci sta dando dentro a mille con dei dossier, con edizioni speciali sul mondo orientale, sul mondo manga. E devo essere sincero, sta realizzando degli ottimi prodotti cartacei, degli ottimi dossier, degli ottimi Megazine sul mondo orientale. Quindi ho recuperato il volume numero due di Pokémon. La super, la super fan guide definitiva. Volume numero due, avevo il volume numero uno, e quindi ho recuperato anche questa seconda Megazine, incentrata sul mondo Pokémon. Sono molto belli questi dossier, questi volumi monotematici, targati spreditori, spreditore, molto molto belli, ben scritti, tante nozioni interessanti, per nostalgici e per super fan. Quindi mi sento di consigliarveli, ho già fatto anche dei video doc singoli su queste riviste, targate spreditore, secondo me sono ben fatti. Super ben fatti. Quindi ho preso questo su Pokémon, volume due. Quello relativo ai robotoni giapponesi, quindi ho preso Enciclopedia Roboti Giapponesi 1 e 2, sui Mecha. Io sono un super fan di Gundam, ma in questi due albi, diciamo, in questi due Megazine speciali, vengono citati ovviamente anche altri super robottoni che hanno segnato la storia del mondo anime, del mondo manga. Quindi Jake Robot, UFO Robot, UFO Diabazon, Daitan 3, Goldrake, Mazinga Z, Evangelion e così via. Sono praticamente delle enciclopedie che analizzano i robotoni giapponesi dalla A alla Z e sono dei volumi molto molto esaustivi. Anche questi per nostalgici perché negli ultimi anni credo che forse Evangelion sia il prodotto più conosciuto tra giovani e meno giovani. Tutti gli altri sono robottoni di generazioni passate, però tanta tanta roba ragazzi. Per nostalgici queste riviste, davvero efficaci. E poi ho preso quest'ultimo volume, incertato sulle sigle degli anime periodo RCA 7886. Dovrebbe essere uscito anche un secondo volume, io per il momento ho recuperato solo questo. Sono usciti anche altri dossier che devo recuperare prossimamente, quello sullo studio Ghibli e tanti altri volumi. Poi ho visto anche che la Spray Editore ha pubblicato anche delle nuove riviste manga giapponesi come Japan Megazine. Recuperò solamente i dossier perché mi piacciono molto. Le uscite singole, mensili, mi interessano il giusto. Non più di tanto, preferisco comprare questi dossier, questi volumi monotematici perché sono ben fatti e propongono sempre degli argomenti che a me interessano. Quindi preferisco prendere i dossier piuttosto che fare, piuttosto che comprare i singoli volumi mensili. Sono tanta tanta roba. Super consigliate queste riviste, questi volumi monotematici. Ok, adesso passiamo al mondo orientale con i prodotti manga. Andrò molto veloce perché ho recuperato diverse serie interessanti. Ho recuperato tutti e sei i volumi di Marmalade Boy. Serie manga da cui è basato l'anime Piccoli problemi di cuore. Serie anime che guardavo da ragazzino. Quindi diciamo che il manga l'ho comprato per nostalgia perché voglio leggere la fonte originale dell'opera. Sono sei volumi, sei Tankobon. In questa nuova veste Ultimate Edition targata Panini, Planet Manga. Solamente sei volumi. Poi esiste anche il sequel. Però a me interessava solamente avere in collezione Marmalade Boy. Perché appunto Piccoli problemi di cuore è la trasposizione anime di questa serie manga. Poi ho recuperato tutti e sette i volumi di Asadora di Naoki Urasawa. Li ho recuperati su Vinted ad un prezzo stracciato. C'era un ragazzo italiano che li voleva svendere perché si doveva trasferire all'estero. Non poteva portare con sé tutti i suoi volumi in tutta la sua collezione manga. Per cui visto che Asadora è ancora in corso, me li ha praticamente svenduti. Mi mancavano. Avevo solamente le variant di Asadora 1. E che dire, Urasawa è una garanzia assoluta. Un mangaka che a me piace tantissimo. Mi sono piaciute tutte le opere che ho letto dello scrittore del mangaka. Quindi non potevo non aggiungere nella mia collezione manga anche la sua nuovissima opera. Asadora. Poi ho recuperato sempre su Vinted ad un prezzo stracciato anche un'opera di un'altra mangaka che a me piace tantissimo. Che è la mangaka Arakawa. Ho adorato tantissimo Full Metal Alchemist. E ho recuperato tutta la serie di Silver Spoon. È breve, quindi c'è volumi, quindi fa anche il caso mio. E vi ripeto, mi è piaciuta talmente tanto, un po' come con Urasawa. Avevo letto come prima cosa Monster. Mi è piaciuto tantissimo. Ho comprato Pluto. Mi è piaciuto. Ho preso 20 Centuri Boys. Mi è piaciuto. E quindi sono quei mangaka, quegli autori che... bravi. Quegli autori bravi che ti fanno venire voglia di comprare tutte le loro opere. Sono curiosissimo di leggere Silver Spoon. Serie che è difficile da reperire. Si trova a prezzi alti. Non viene praticamente più ristampata. Il volume numero 15 è molto raro. Io l'ho trovata davvero ad un prezzo stracciato su Vinted. completa e sono super, super soddisfatto perché in una botta solo ho recuperato tutti e quindi c'è i Tankobon. Poi vi faccio vedere dei volumi così che ho recuperato molto velocemente. Ho preso la Variant di Sanda 1 dall'autore di Beastars. Nuova opera dell'autore Paru Itagaki. Sanda 1 Variant. Poi ho preso anche la Variant dell'Attacco dei Giganti numero 34. Variant Anime Edition. Variant realizzata in collaborazione con Crunchyroll. E che dire, Attacco dei Giganti non ha bisogno di presentazioni. Ho tutto sull'Attacco dei Giganti. Mi mancano solamente le Variant quelle vecchie vecchie che si trovano a prezzi elevati. Questa l'ho presa subito al volo. Tanta roba, molto bella come Variant. Ovviamente la cover è anime. Ci propone i personaggi dell'anime, i disegni dell'anime. Poi ho recuperato da fan di Demon Slayer anche questa Side Story. Infatti si chiama Demon Slayer, Anota Story. Volume Side Story. Scritto da un collaboratore della mangaka. Infatti l'autore è Ryoshi Hirano. Ed è praticamente un volume a parte dell'opera. Una Side Story. Potete anche non comprarlo. Io da buon fan di Demon Slayer l'ho preso per completezza. Ma volendo si può anche non comprare come volume. Poi ho recuperato la Variant di Dead Note. Variant numero 1. Io ho la Black Edition di Dead Note. Ma è un'opera che mi è piaciuta talmente tanto che ho voluto comunque recuperare questa Variant Edition che fa parte della serie normale composta da 12 volumi. Opera ovviamente di Oba e Obata. Bellissima questa Variant Edition con alcuni elementi in rilievo. Troviamo il nostro Light Yagami e Ryuk in rilievo. Variant superba, molto molto bella. Poi ho recuperato l'edizione Variant del numero 28 di One Punch Man. La Limited Edition, la Variant componibile. Non è l'edizione Regul. E questa è relativa al numero 28. Poi ho recuperato il numero 11 e il numero 12 di Spyper Family. le ultime due uscite del manga action comedy di Tetsuya Endo edito da Planet Manga. Sono gli ultimi due Tankobon usciti. Opera che sta avendo un successo della Madonna grazie anche all'adattamento cinematografico uscito recentemente e anche visto il successo della serie anime che è arrivata anche su Netflix doppiata. Serie anime che ancora non ho recuperato, non l'ho ancora vista, ma l'opera merita. Gran bella action comedy divertente. Spyper Family. Poi ho recuperato il numero 21, 22, 23, 24 di Zuzuzu Kaisen. Anche questa è un'opera che sta andando un casino ultimamente. Superbo Shonen di Jeje Akutami. Super opera. L'anime sta avendo un grandissimo successo. Tanta tanta roba. Anche quest'anime qui è sbarcato su Netflix e che dire, vi ne ho sempre parlato bene di questa superba opera shonen. Dark fantasy. Tanta roba ragazzi, atipica come opera. A me piace parecchio Zuzuzu Kaisen. Bella cazzuta. Gran bella opera. E infine, ho recuperato gli ultimi due Tankobon di Chainsaw Man. Il 14 e il 15. Anche questa è un'opera che a me è piaciuta molto. Non ho ancora avuto occasione di leggere questa seconda stagione. Questo secondo filone dell'opera di Fujimoto. Il primo stage, la prima stagione, mi è piaciuta parecchio. Per cui ho deciso di continuare e di acquistare anche la seconda parte. Anche questa super opera splatter, ricca d'azione, con una trama semplice ma ben delineata. Bellissima opera ragazzi. E basta ragazzi. Questi sono tutti i fumetti, i manga che ho recuperato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei miei acquisti. Se ho fatto bene, se ho fatto male. E se avete anche qualche opera da consigliarmi. Comunque cerchiamo di aprire un dialogo, di interagire tra di noi sul mondo manga e sul mondo fumettoso. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. E vi do appuntamento tra qualche giorno con un nuovissimo e eccitante video. A presto.